È molto legato a condizioni climatiche e a condizioni di come sono state costruite le palazzine. Possiamo dire che in condizioni dove fa molto freddo, ma anche dove fa molto caldo, sono climi che favoriscono purtroppo il fenomeno della povertà energetica. Molto spesso la povertà energetica negli altri paesi europei è associata con non riuscire a riscaldare adeguatamente la casa. Adesso, proprio per la spinta dei paesi sud-mediterranei, si parla anche di povertà energetica con chi non riesce a mantenere una temperatura decente, bassa d'estate. Che vuol dire che abbiamo, geograficamente parlando, sia le regioni del nord ma anche le regioni del sud per il problema inverso del clima, ma questo non esclude le regioni centrali perché chi è poi in condizioni di povertà e non ha i soldi per comprare o per efficientare la propria casa alla fine si trova anche lui in condizioni di povertà energetica. A tale proposito mi riallaccio proprio a uno studio uscito l'altro giorno che dimostra che effettivamente le case non efficienti, cioè le case in classe G sono quelle più vendute sul mercato, accentuando ulteriormente la condizione di povertà energetica perché chi non ha i soldi per potersi permettere alla fine è costretto a comprare una casa che non è efficiente.